Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania che questa mattina hanno arrestato 11 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di estorsione, entrambi reati aggravati dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Napoli dopo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Secondo quanto emerge dalle indagini, gli arrestati avrebbero gestito le piazze di spaccio dell'area di Fratta Maggiore e Fratta Minore nell'Interlanda Nord di Napoli, monopolizzando vendita e cessione di cocaina, hashish e marijuana. L'attività investigativa è iniziata nel 2016 dopo che a Fratta Maggiore si erano registrati episodi di violenza riconducibili ad uno scontro tra organizzazioni criminali per il controllo delle piazze di spaccio.